Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ultima edizione settimanale di AC News, il notiziario che ci permette di restare sempre aggiornati sulle vicende del cavallino rampante. Sarà un fine settimana di riposo per la prima squadra Maranto che dopo la vittoria di Alessandria guarda il finale di stagione con ottimismo. Domani l'Arezzo avrebbe dovuto affrontare la propria Cenza, invece guadagnerà un 3-0 a tavolino con tre punti da aggiungere alla classifica. A distanza di dieci giorni dalla vittoriosa trasferta di Alessandria, gli Amaranto poi torneranno in campo giovedì 18 aprile a Chiavari contro la capolista Entella nell'orario serale delle 20.30. Altri nove giorni di pausa poi prima dell'ultimo match casalingo, fissato per sabato 27 aprile al Comunale contro il Gozzano alle ore 16.30. Il match conclusivo della regular season si giocherà invece a Pistoia sempre alle 16.30. È soltanto una la gara da recuperare prima della fine del campionato, vale a dire quella del 23 aprile tra Piacenza e Virtus Entella. In zona play-off le distanze sono brevissime, ricordiamo che il regolamento prevede che la prima classificata venga promossa in Serie B, seconda e terza classificata voleranno direttamente alla fase nazionale dei play-off, mentre dalla quarta alla decima verranno disputati i play-off interni al girone. Da segnalare inoltre che da qui al 4 di maggio, oltre l'Arezzo, anche Arzachena, Provercelli e Juventus Under-23 conquisteranno i tre punti a tavolino per il caso della Piacenza. Dopo due giorni completamente a riposo sono ricominciati ieri pomeriggio gli allenamenti per gli Amaranto di Dal Canto, allenamenti che sono stati condotti dal vice allenatore Giuliano Lamma. Alcuni lavori di manutenzione hanno inoltre ritardato l'arrivo della prima squadra, l'Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino. Questa mattina la seduta di allenamento si è tenuta sul sintetico di via Buonconte da Montefeltro che ospiterà gli Amaranto anche domani. Domenica poi gli uomini di Dal Canto si alleneranno invece alle ore 10 e 30 tra le mura del comunale città di Arezzo, in modo da testare il manto erboso dello stadio dopo i lavori di manutenzione delle ultime settimane. Malgrado lo stop del fine settimana, mister Dal Canto terrà questo pomeriggio alle ore 16 e 30 la sua conferenza stampa presso lo stadio comunale città di Arezzo. I tifosi che vorranno saperne di più potranno farlo collegandosi alla pagina Facebook della società sportiva Arezzo e seguendo la diretta streaming della conferenza. Per chi invece vorrà incontrare di persona i propri beniamini Amaranto, questo sarà il pomeriggio giusto, la squadra al gran completo guidata dal Canto. Sarà infatti ospite fino alle ore 18 della Land of Fashion di Fogliano della Chiana, dove incontrerà fan e tifosi in piazza maggiore al Val di Chiana Outlet Village. Qui i ragazzi in maglia Amaranto daranno vita a un divertente match con i presenti che sarà trasmesso anche in diretta da Radio Italia 5, emittente radiofonica che detiene i diritti in esclusiva delle gare dell'Arezzo. Anche l'Arezzo ha detto presente all'incontro con gli arbitri della Lega Pro organizzato ieri presso l'hotel Gallia di Milano Marittima, con una delegazione rappresentata dal direttore generale Ermanno Pieroni, da mister Alessandro Dal Canto e dal capitano Nello Cutolo. Un rapporto quello con i direttori di gara che è andato migliorando nel corso della stagione. All'inizio dell'anno la società si era infatti lamentata in più occasioni sia per la gestione dei cartellini che per i calci di rigore, se inoltre le espulsioni che l'Arezzo ha subito, a cui vanno aggiunto le due di mister Dal Canto, beneficiando invece di cinque espulsioni a favore. Per ciò che invece concerne le immende inflitte alla società dal giudice sportivo, queste ammontano a ben 6 mila euro di multa per cinque infrazioni. Ma le iniziative non finiscono qui e sono indirizzate anche al settore giovanile. In settimana i cavallini rampanti hanno infatti incontrato lo sponsor ufficiale del settore giovanile Amaranto Ubi Banca per una lezione di educazione finanziaria presso l'arbitro club di Arezzo. Tanti temi toccati dal relatore dell'incontro Giovanni Bonacci. Presente anche il direttore territoriale di Arezzo Luca Scassellati, il responsabile dello sviluppo commerciale Danilo Giomoni e la referente per i media e le sponsorizzazioni Maria Ide Moretti e poi Donella Borgogni, sempre responsabile per i media e le sponsorizzazioni. Il tutto sotto ovviamente la supervisione attenta di tre big Amaranto come Capitan Cutolo, Luciani e Benucci. E termina qui la prima parte di AC News. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Torniamo tra pochissimo con noi studio nuovamente. Anche oggi un ospite Amaranto sarà con noi Fabio Foglia. Restate con noi. Amaranto è un ospite Amaranto.